Ciao a tutti, come state? Spero tutto bene. Oggi siamo qua perché vi faccio finalmente, visto che è il 3 agosto, il video sui prodotti finiti di luglio. Prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi al canale, cliccare la campanella per non perdere i prossimi video e lasciarmi un like. Tanto per voi è tutto gratuito, ma a me serve per vedere che i miei contenuti vi piacciono e quindi mi sento motivata a proporvi altri video. Premessa, mi vedete vestita come uno dei prossimi video perché siamo appena andati in armare, Antonio è andato a lavorare, prima di sistemarmi, farmi la doccia, mettermi comoda, ho detto che ho l'occasione per registrare i video, così questa roba la butto via e le altre cose dell'altro video le sistemo. Ma non perdiamoci in chiacchiere, iniziamo subito. Non sono, no, ci sono abbastanza così nel rispetto allo scorso mese, non troppo, non troppo, perché sono stata una settimana giù a Napoli, quindi quello che finivo giù lo buttavo direttamente, non sono stata a portarmela a casa per mostrarlo, detta sinceramente. Però abbastanza quelli che ci sono. Allora, iniziamo subito facendovi vedere questo prodottino di Neutromed. Questo è un prodotto intimo e in particolar modo, perché Neutromed di questo prodotto intimo ha diverse funzioni, questo qui è freschezza con azione antibatterica, effetto deo fino a 12 ore. Mi trovo molto bene, con tutta la linea Neutromed, freschezza, poi c'è quello per fare le barriere, insomma, per protezione e quant'altro. Mi trovo veramente, veramente bene, questo lo trovate all'Esselmung, al Care, al Conad Cop, ovunque lo trovate. Comunque, ora, non vi so dire i prezzi, perché abitando ancora con i miei, la spesa la fanno i miei, quindi non vi so dire i prezzi, però, nel senso, per un prodotto del genere, non di certo come ne va bene 5 euro, però, se non l'avete mai provato, provatelo, ve lo consiglio vivamente. Poi, come bagno schiuma, ve ne ho preso uno, ovviamente, in tre non ci basta per un mese, anzi, però ve ne ho preso uno a titolo esemplificativo, nel senso che i miei, non sempre, però, utilizzano, cioè, utilizziamo spesso della marca Borotalco e Nivea, mi pare, ora non mi ricordo cosa c'è in uso, comunque, Borotalco, c'ha questo, fa con un'altra fragranza, con un'altra fragranza e me ne prendo uno di tutti, così da provare, così non ci annoiamo mai. E questo, in particolare, è fiori d'arancio, energizzante, bagno doccia, effetto Borotalco sulla pelle, questo ha un maxiformato 700ml, lo trovate ovunque, davvero molto buono, vi lascio la pelle profumata e liscia, quindi, anche questo ve lo consiglio, insomma. Poi, i prodottini per i capelli, questo qua, che trovate su Makeup.it, costa tipo 1,70 euro, pochissimo, ed è fantastico, fantastico. Ora, non vi so leggere la marca, perché è scritto tutto in polacco, comunque, il prodotto è questo. Se avete visto l'ultimo video, mi pare, Makeup, ne ho preso un altro, perché è veramente fantastico, per il prezzo, cioè, veramente. Poi, altro shampoo, questo qui, di Kari, lo trovate sempre su Makeup.it, questo è la menta con effetto, appunto, purificante, che vi va bene a pulire il cuoio che ho peluto, anche questo è un prodotto veramente buono, anche questo costa intorno all'euro, anche questo ve lo consiglio, vivamente. Altri due prodottini per i capelli sono quelli di Sansic, io, praticamente, come prodotto dopo shampoo, e quindi come balsamo, utilizzo quelli di Sansic, non riesco a farne a meno. Questi li trovate ovunque, costano sui 2-3 euro, e sono fantastici. Io utilizzo, quasi sempre, questo qua, liscio perfetto, della Sansic, il, faccio uscire i gatti, diciamo, la linea è quella un minuto wow, perché, appunto, dopo un minuto il gioco è fatto. Questo qui è per capelli lisci, senza effetto crespo, fantastico, mi ha aiutato tantissimo, perché da quando mi ho schierito i capelli mi erano tutti cotonati, quindi adesso, oltre che grassi, sono anche crespi, e quindi è un casino, veramente, però questo qua ve lo consiglio tantissimo. Poi, quando ero giù a Napoli, ho preso anche questo qua, perché non me lo ero portato, quindi ne necessitavo. Questo qua non c'era, e quindi ho optato per questo qui, di chiaranasti, scintille di luce, trattamento attentivo per capelli crespi e spenti, brillantezza e morbidezza estreme. Questo qui, appunto, per capelli crespi mi ha aiutato tantissimo. Quindi, anche questo, ve lo consiglio. Poi, sempre per i capelli, e ve ne ho parlato nel video che ho fatto giù a Napoli, questo prodottino di Avantime, questo costa 1,80 euro, è uno spray luminoso che fa diverse funzioni. Io lo amo follemente, per fortuna ne ho altre tre, o anzi, uno mi sta finendo. Poi ho preso altri due prodottini a pompetta. E' fantastico. Tutto quello che c'è scritto qui, realmente fa. Quindi, effetto lisciante e districcante, anche anticrespo, non unge il capello, e può essere usato sia d'inverno contro il freddo e l'umido, sia d'estate contro il caldo torrido. L'olio di semi di mirtillo, spremuto a freddo, e l'omega blu, contenuto in esso, ridona capelli secchi, svibrati, lucentezza, corposità, pettinabilità e vitalità. Ottimo per capelli crespi, svibrati, secchi, ricci, ribelli, difficili da pettinare. Questo qua si può applicare sia da capelli bagnati, quindi voi, con i capelli bagnati, dopo la doccia, quello che farò io dopo, lo andate a spruzzare, li andate a pettinare, e vi va a togliere il crespo. Dopo che avete asciugato i capelli, io lo rispruzzo, lo pettino, sono lucentissimi, morbidissimi, appena uscite dal parrucchiere, per 1,80€ fantastico. Io ho provato a cercarlo anche qua dai miei cinesini, io qua nelle vicinanze ho tre cinesi abbastanza grandi, in due non c'è, devo vedere nell'ultimo, nel caso quando torno a Napoli faccio assolutamente altra scorta. Se lo trovate, la linea, la marca è Avantime, prendetelo perché vi svolta la vita, è il prodotto dell'anno. Poi, altro prodottino è questo, detergente viso per pelli grassi di Himalaya, il Fresh Start, questo qui è ai mirtilli, fantastico, 100ml, questo qua l'ho trovato anche da Acqua e Sapone, costa sui 2€, fantastico. Ne ho usati, ci sono questi ai mirtilli, quella alle fragole, quello al limone, quello forse all'arancio, li ho provati tutti, tutti li amo, fantastici, fantastici. C'è anche questo, provatelo. Poi, altro prodottino, il contorno d'occhi di Pilaten. Io ho difficoltà a recensire i patch occhi perché io qua non sono secca per fortuna e fondamentalmente i patch occhi sono appunto per idratare, quindi non vi so dare delle recensioni ottimali perché appunto non essendo io qua secca, non vi so dire come il prima e come il dopo, però sicuramente dopo si è lisci e soprattutto non brucia gli occhi che è cosa fondamentale. Comunque questo, quindi vi dai di consigliere, ve lo consiglierei, questo costa 40 centesimi, lo trovate su makeup.it. Altro prodottivo per il corpo è uno scrub di Café Mimì, no, questo qui, ah, è sempre per il viso, scusate, uno scrub viso che però io ho utilizzato anche per il corpo perché le poche volte che sono andata al mare con il sole grosso così scoccione, bianca cadavere, ieri sono andata al mare con le nuvole, mi sono ustionata e quindi soprattutto dopo il sole io utilizzo per il corpo gli scrub viso perché sono più delicati, sono meno aggressivi, mi sono trovata stra bene i prodotti di Café Mimì, io ne ho tanti, ne ho provati tanti, mi ci trovo stra bene, li trovate su makeup.it, costano pochissimo, prendeteli, assolutamente. Poi, 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 questa maschera qui che ho trovato nella box di Look Fantastic di Starskin Vip, quella che Zeus, se avete visto il video, mi ha divorato, questa qui non è una maschera, nel senso è un guantino che voi inserite le dita, vi andate a passare sul viso e mentre ve lo passate vi fa diverse azioni, vi va a fare un effetto esfoliante, vi va, anzi, sette in uno, perché appunto vi va a pulire la pelle, vi la va a esfoliare, ve la va a scrabbare, ve la deterge in protezione, poi appunto c'è la maschera, insomma, vi tonifica la pelle, c'è il siero, c'è il moisturizing, c'è, vi fa da primer per il trucco, c'è, fantastico. Infatti ora devo cercare, spulciare su internet, devo vedere dove lo vendono, perché assolutamente questa è la svolta, un guantino, sette trattamenti nudo, in uno, fantastico. E vi lascio la pelle, una chicca. Ultimi tre prodottini, sono tre maschere per il viso, la prima è di Ziaia, quella latte di capra, fantastica, vi lascio la pelle, che sembra il culetto di un bambino, altra di Soraya, anche questa a me è piaciuta molto, ora questa qui c'è scritto, però non è un melone, è un frutto tropicale, penso. Mi ci sono trovata strabene, ma quella che ho amato. Questo mese sì, ho fatto poche masche, nel senso che ne ho fatte sei, perché io con queste qua ci faccio due applicazioni, ne ho fatte sei, perché con il caldo, a parte sette, diciamo questa, perché questa qui è solo una volta, non riesco nemmeno a tenere la maschera sul viso, perché è troppo caldo, riesco giusto a pulire la faccia con il detergente, a farmi uno scrub e basta. Però quello che ho amato in particolar modo è questa qui di Leocrema, una maschera nel viso energezzante, pelle spenta, all'albicocca. Sembrava che io mi fosse spiaccicata in realtà un'albicocca in faccia, infatti è arancione, ocra gialla, ed ha un profumo, cioè se le trovate, prendeteli. Io queste qui le ho prese da DM, forse a Bologna, sì, penso di sì. Prendetele, costano veramente poco, tipo 80-90 centesimi, poi ce ne sono due, prendetele. Infatti non vedo l'ora di provare anche le altre, che sono a diverse fragranze, perché il top, il top. Comunque, questo è tutto quello che ho utilizzato, ovviamente tutto tutto, perché ripeto, questo non è stato l'unico, però ne ho preso uno a titolo esemplificativo, come questo. Poi, vabbè, di shampoo ne ho usati due, però un altro lo sto finendo che è in dotazione, insomma, poi si sa come vanno queste cose. Comunque, io spero di avervi tenuto compagnia. Fatemi sapere se utilizzate qualcosina che io ho finito, se avete qualche prodotto da consigliarmi, i consigli sono ben accetti, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!